Così per quanto riguarda il servizio idrico integrato occorre valutare con attenzione quali sono le ragioni delle difficoltà. Se la ragione, come sostiene il progetto di legge dell'onorevole Daga, è la privatizzazione allora io chiedo che coerentemente si facciano tutti i passi necessari per arrivare a che cosa? Ad un servizio idrico nazionale non si può fare la privatizzazione, cioè la ripubblicizzazione sulla testa dei comuni, sulle competenze dei comuni che vengono così obbligati, verrebbero obbligati a gestire il servizio idrico integrato con un unico modello gestionale imposto per legge. Da sempre i comuni hanno avuto la possibilità di optare per le varie forme e noi riteniamo io personalmente ritengo che questa libertà di scelta ai comuni debba essere garantita. Allora se si vuole ripubblicizzare si abbia coraggio di chiamare le cose con il loro nome e si dica che occorre istituire un servizio idrico nazionale così come c'è servizio sanitario nazionale.